Assessore, bisogna fare rete in questo campo, l'ha detto il Ministro e lo ha ribadito anche lei nel suo intervento. Sì, ho voluto fortemente la visita del Ministro alla disabilità Alessandro Locatelli, che ringrazio per aver accolto il mio invito. Abbiamo fatto un giro per la provincia di Tero, in particolare a Campri, la Casa Famiglia, l'Anfas, a Castelnuovo, al centro di Relli e a Rurala Bilangia di Atri. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione su quello che bisogna ancora fare, tanto è stato fatto ma nel sociale i soldi non bastano mai. Come Regione Abruzzo lavoriamo in sinergia col Governo, tante le misure messe in campo con il nuovo piano sociale, che come sapete abbiamo triplicato i fondi, oltre 450 milioni, però dobbiamo ancora fare tanto. Come diceva il Ministro, è fondamentale ascoltare le parti sociali che poi sono il front office e sanno quali sono le criticità. Tante le misure messe in campo a partire dal caregiver, ma lì stiamo lavorando appunto col Ministro, con cui appunto c'è un dialogo per riconoscere la tutela previdenziale, poi il rimborso delle spese dei malati oncologici che devono ricorrere a vista di fuori regione, vita indipendente, un fondo speciale per l'autismo e il dopo di noi per cercare di dare una tutela quando i ragazzi perdono i propri genitori. Quindi c'è tanto ancora da fare, però ripeto, in sinergia con il Governo stiamo portando avanti un settore che forse prima in Abruzzo era rimasto indietro, invece abbiamo voluto dare dei segnali forti anche perché dopo la pandemia le persone fragili hanno subito ulteriori pregiudizi e quindi vogliamo dare una dignità di vita a tutti. Mi fa piacere quando una persona fragile e disabile sorride e ritengo che in Abruzzo nessuno deve rimanere indietro, dobbiamo rimuovere ogni forma di ostacolo, non solo architettonico ma anche psicologico e morale. Tanti sono anche i progetti speciali per includere le persone con cultura, arte, sport e enogastronomia. L'ultima iniziativa è quella appunto di Casa Sanremo a cui appunto ho voluto dare supporto perché anche con la musica si può includere.